Come è nato questo tipo di progetto e che prospettive può avere? Il progetto è nato all'incirca cinque anni fa con un gruppo di amici che volontariamente si sono messi insieme per fare qualcosa per i giovani, cioè facciamo qualcosa per questi ragazzi, per fargli vivere a loro un'esperienza di parrocchia, un'esperienza bella. Così è venuto in mente, ecco, tra amici, un torneo, un evento sportivo per ragazzi. Ed è nata inizialmente come calcio maschile, si è poi piano piano esteso al calcio femminile la scorsa edizione anche la pallavolo misto. Adesso siamo giunti alla quarta edizione, numeri sempre in crescita. Siamo partiti da 150 ragazzi fino ad arrivare a un 300 la scorsa edizione. Questa quarta edizione è appunto nella parrocchia di San Luca in Latina e confermerà appunto gli sport calcio maschile, calcio femminile e pallavolo misto. Quante sono le parrocchie che si iscrivono e soprattutto, diciamo, quale tipo di valori volete trasmettere attraverso questa Parish Cup? Le parrocchie che partecipano, ci basiamo sulla esperienza dell'anno scorso, sono all'incirca una ventina. Appunto ogni parrocchia può partecipare sia come calcio maschile, come femminile, che come pallavolo. Lo scopo è quello appunto educativo prima di tutto. Si vuole far vivere ai ragazzi un momento di festa, di sport, di gioco, di divertimento, ma anche e soprattutto far vivere ai ragazzi un'esperienza di comunione diocesana, cioè avere tante parrocchie, tutte con ciascuna con il colore della maglia diverso, con il proprio logo, il proprio stemma, ma tutte unite insieme per vivere questa esperienza appunto nell'unità, nell'unità della Chiesa Pontina. L'ultimo scopo, quello ancora più importante, che va a completare i primi due, è lo scopo di una conoscenza maggiore con il rapporto con Gesù Cristo, quindi un'esperienza di fede. Non a caso il momento più importante della Parish Cup non è la premiazione finale, ma è il momento della celebrazione eucaristica che si avrà a metà giornata, verso mezzogiorno e mezza, a cui probabilmente parteciperà anche il nostro vesco, il signor Mariano Crociata, dove appunto è un momento dove tutte le squadre possono partecipare insieme a questa eucaristia, dove appunto si esprime l'unità di questa Chiesa che insieme prega il Signore Gesù Cristo.